Creare contenuti di valore non è la stessa cosa di fare content marketing, mettiamo bene 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 in chiaro questa cosa. I contenuti di valore non sono la stessa cosa che fare content marketing, c'è una grandissima differenza fra un contenuto di valore prodotto dalla persona che è uno specialista uno studioso un esperto un consulente un appassionato di un certo argomento così tanto appassionato da volere scrivere e condividere ciò che scopre conosce apprende su quel tema da ciò che sullo stesso tema potrebbe scrivere un professionista del content marketing, un freelancer, uno scrittore professionista che produce contenuti per te per il tuo sito per quello degli altri ma qual è il lato negativo il lato negativo è che chi utilizza il content marketing come approccio per produrre contenuti per essere più visibile per ottenere più traffico lead generation fare più vendite portare la gente a conoscere i propri prodotti e servizi utilizza i contenuti come se fossero merce di scambio senza nessuna loro personalità vita carattere e quindi si sono fatti persuadere da quelli che sono esperti di marketing SEO visibilità del fatto che più produce contenuti su un certo argomento con certe parole chiave con certi temi con certe frasi è più è probabile che google ti aiuti a far arrivare nuove persone interessanti sul tuo sito ma quello che le persone si dimenticano è ok se vai in giro con un sacco di collane d'oro e i capelli tutti cotonati con i boccoli tu uomo e una minigonna con le giarrettiere adesso giù per la strada principale del paese o della tua città un sacco di gente si girerà ti sorriderà si metterà a ridere qualcuno ti chiederà magari anche l'amicizia su facebook qualcuno ti approccerà anche con altri tipi di proposte ma se tu ti dimentichi il contesto e le conseguenze di quello che stai facendo e guardi soltanto ai risultati della visibilità che ottieni è caro mio stai facendo un grande errore non ci voleva robin good per venirtelo a dire e cioè ti stai sputtanando letteralmente stai buttando via la credibilità in nome di maggior visibilità e traffico usando delle tattiche degli approcci dei metodi veramente poco raccomandabili perché questo è poi quello che succede veramente in pratica nella realtà di tutti i giorni e non soltanto in italia anche all'estero guarda una storia proprio calda calda che mi ha dato spunto per questo video che è questa qui ieri in uno dei miei radar che cercano di scoprire se ci sono nuovi contenuti interessanti sul tema che mi sta a cuore quello della content curation è apparso un titolo di un articolo the 21 best tools for content curation firmato da tom peak su un sito che si chiama webbiquity.com ora io sono andato per curiosità come faccio sempre a vedere andiamo a vedere vediamo cosa c'è cosa c'è scritto che tu l'hanno messo eccetera ho letto l'intro e poi mi sono spizzato questi 21 tool ora io sono un appassionato fissato fanatico della content curation quindi non mi puoi mettere lì delle cose che non c'entrano niente approfittando del fatto che io non ne so niente sono un novizio vengo qua mi dice migliori tool e io me li bevo tutti no io non me li bevo tutti quindi ho guardato perché questo giochino lo fanno in tanti e subito ho visto che c'erano delle cose che non quadravano che quindi lui non aveva verificato questi tool lui che cosa aveva fatto aveva fatto il solito furbone era andato a spizzarsi i siti di altri esperti che avevano fatto in passato altre liste le aveva unite insieme poi magari ha usato qualche criterio in più cioè tutte sputtane in un secondo se tu mi vai da degli esperti nella scrittura dei contenuti che hanno fatto dei contenuti specialistici su un tema che non conoscono bene poi tu quando vai a prendere il loro parere esperto e lo riusi per fare un contenuto di valore ma cioè agli occhi delle cinture bianche puoi anche vincere ma agli occhi di quelli che nel settore ci operano che potrebbero diventare i tuoi clienti partner collaboratori promoter come potrei essere io per ton picche proprio ai chiuso cioè so che ton picche è un content marketer nel senso aggettivo dispregiativo per me content marketer non ok uno che usa i contenuti usa i contenuti come un escamotage per apparire o per dare informazioni utili su cose che neanche lui sa cioè queste cose vanno detto perché se tutti fanno sempre pippa vedono le aziende più grosse marchi prestigiosi eccetera che fanno i contenuti che usano i loro siti proprio come come devo dirti fanno una mercificazione dei contenuti perché non hanno qualcosa da dire veramente non hanno una grande competenza o esperienza o chi ce l'ha dentro quell'azienda non sa scrivere non vuole fare video non hanno le palle per venire fuori allora chiamano il content marketer assumono uno per fare una cosa come quella che ha fatto ton pic ma quante ce ne sono migliaia forse sono la maggior parte delle cose che ci sono là fuori e quindi la cosa più triste è che ton pic in questo momento io sono certo che lui pensi di essere nel giusto di aver fatto un contenuto utile tant'è che lui lo dice io penso di essere stato utile un sacco di persone quindi me ne prendo la responsabilità di questi contenuti ma quello di cui non si rende conto è che mentre accontentato 25 cinture bianche a quelli che organizzano le conferenze a quelli delle aziende che operano nel settore lui è apparso come uno che si prostituisce perché perché l'hai fatto perché ti ha pagato uno di quelli per scrivere un po di nomi di aziende e metterci dentro il link alla sua oppure perché l'hai fatto se non le conosci neanche no tom pic ti dice ma io l'ho fatto perché è utile ho guardato il lavoro degli esperti ho guardato il numero di review su google ho fatto uno più uno questo è un contenuto di valore utile liberissimo tom pic non so se capisci l'italiano ma puoi continuare a pensarla così fatto è che io non promuoverò mai tom pic chiunque mi verrà da me a dirmi senti ma tom pic mi ha consigliato questo con questo tool per fare la curation lo sai quante pernacchie gli faccio cioè si è ai miei occhi si è ridicolizzato ho perso tutta la sua credibilità non gli darò mai retta per cui mi fa piacere che mio fan da tanti anni ma il content marketing per così come viene interpretato è una piaga una piaga giornalistica sociale editoriale una perdita di tempo per tutti che non porta da porta profitti a sti furboni furbetti come vuoi chiamarli paraculi che la utilizzano che altro dire morale della favola con i contenuti di valore quelli veri quelli pesanti quelli fatti da un appassionato da una persona realmente così intensamente coinvolta con qualcosa da volerla condividere si possono creare campagne di marketing chiamale di content marketing estremamente efficaci sbalorditive ma con l'approccio al content marketing che vediamo rappresentato tutto intorno a noi dai contenuti prodotti dalla maggior parte dei siti aziendali di grandi piccoli e medi brand dove viene un non specialista un non appassionato a creare contenuti con lo scopo di ottenere views condivisioni vendite maggior visibilità e traffico non possiamo con questo approccio creare mai dei contenuti di valore e rieschiamo ogni singola volta di sputtanarci in maniera significativa senza che tra l'altro ce lo venga mai a dire nessuno